Una strigliata che in casa Teramo si augurano sia salutare. Anche perché, stando così le cose, specie in classifica, non c'è più spazio per rinvie e attese. Il diavolo è ultimo, in coabitazione con l'Ancona, è vero, ma ha tre punti di distanza dalla possibilità che il play-out col Modena nemmeno si giochi. Insomma, la situazione è più che grave e disperata. La sconfitta di Bergamo alla dirigenza non è andata proprio giù, non con le modalità viste all'Atleti Azzurri. Squadra solita, senza nerbo e senza carattere, troppo difensiva e capaci di proporre alcunché. E allora la società dopo aver annullato il giorno di riposo pretende una risposta sul campo, non nel semplice lavoro settimanale, ma nei risultati. Delle buone intenzioni la defoseria non sa più cosa farsene. Strigliata nello spogliatoio prima dell'allenamento, nessuno escluso. Le ultime prestazioni sconcertanti, fossero replicate anche in futuro, manderebbero il diavolo direttamente tra i dilettanti, senza passare dagli spareggi. Qualcosa Ugolotti potrebbe cambiare, visto che il 5-3-2 è un sistema rivelato si fa alimentare specie nella fase di attacco. Il tecnico riavrà a caidi dopo la squalifica ed è probabile che qualcuno degli interpreti della gara contro l'Albinolef si accomodi in panchina. Anche perché il Gubbio, che all'andata illuse il Teramo di Nofri di aver trovato la strada giusta, è squadra per certi versi imperscrutabile. Anche se, non più tardi domenica sera, è stato un valido alleato dei Biancorossi, fermando proprio l'ancora nel posticipo e relegando i Dorici all'ultimo scalino della classifica. Abbraccetto proprio col Teramo, a cui non basterà sperare nelle disgrazie degli altri per evitare il fallimento sportivo senza considerare che qualche risultato va centrato.